Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2018 Siamo al terzo ultimo gran premio della stagione Siamo in Messico Siamo prontissimi per scendere in pista per le qualifiche Allora andiamo subito a farci il nostro giro di qualifica Abbiamo un buon vantaggio su Sebastian Vettel Quindi è possibile anche che si riesca a conquistare il mondiale in questo GP Vedremo, vedremo Pronti, pronti Allora, circuito che di solito ci porta anche abbastanza bene Diciamo soprattutto nei curvoni veloci O almeno era così per la Con la nostra McLaren, il nostro mandarino Che era molto sportiveggiante e squiscioso Vediamo qui adesso con la Ferrari cosa riusciamo a combinare Quindi prontissimi per il giro di qualifica Concentrati per cercare di partire il più avanti possibile sulla griglia Se voi che... se ve lo chiedete il volante La paletta per salire no Ancora non l'ho sistemata Sto aspettando di finire il campionato Perché... per smontare il volante Perché se lo smonto adesso poi faccio qualche danno Meglio di no Meglio di no Attenzione siamo un po' indietro Un po' troppo indietro direi Partiti malissimo Partiti veramente malissimo Ma veramente malo Ma che cazzo Falla squisciare qua Falla squisciare Abbiamo fatto una prima parte del tracciato Pessima Guarda lì Sebastian come va Noi terza posizione Sebastian però ha un... Un ritmo molto più sportiveggente del nostro C'è da dire come detto che ho fatto giusto due giri di prove libere Quindi la pratica Noi ce la facciamo in gara Guarda lì sempre così Fette l'Alozzo E noi ci piazziamo in terza piazza Ma va bene va bene Ci sta ci sta Allora Andiamo a vedere un attimino Anche la situazione del mondiale Ben fatto Risultato notevole Cerca di girare così anche in gara Eh Siamo lì lì eh Siamo lì lì Basta Oddio basta non perdere neanche troppi punti su Seb Già si va Ci sono 75 punti a disposizione Quindi L'ostro vantaggio era di 40 Oddio non ho fatto il calco 47 punti più o meno Non lo so non mi sono scordato di fare il calco effettivamente E celebre per l'inquinamento Ma oggi l'aria è carica Soprattutto da entusiasmo Il pubblico è caldissimo E continua a cantare Non solo questo pomeriggio Ma durante tutto il fine settimana Tutti amano la Formula 1 Da queste parti L'aspettativa è davvero alta Speriamo che il Gran Premio di oggi Si riveli all'altezza Ok Vediamo se c'è stata qualche variazione Eh non Seb comunque va forte eh Mamma mia Dato mezzo secondo a tutti Boss So che puoi farcela a occhi chiusi A occhi chiusi non Eh non esageriamo 18-20 Guarda mettiamo giusto una puntina in meno Perché secondo me qua Consumi ci potremmo stare Anche se non ho fatto le prove per i consumi Ormai come detto sto facendo giusto Qualche giretto Tanto per E niente ragazzi Prontissimi per questa partenza In Messico Con La nostra Ferrarina Vai vai Guarda come si è spot Guardalo lì Sergio Perez Come si insinua Attenzione staccata Fernando va Certo Quasi di andare lungo E niente Maledetto Fernando Cioè solo noi Gli stronzi che hanno perso tutte queste posizioni Perché Fernando si Invece di aggredire quel maledetto di Sergio Perez Ha rallentato Non devi rallentare Fernaie Devi entrare Tibia Tibia contro Tibia No andiamo lì Subito a riprendere Scusa Attenzione Si insinua Non esiste Che rimaniamo Qui dietro Soprattutto sapendo che Secondo c'è Perez Oh se prima di noi ci arriva Fernando Pure pure Ma Perez Ma Perez no Perez non può arrivare Prima di noi Signori Vabbè Fettel Come sempre Magina Come se non ci fosse Un domani Non è troppo distante Però Sembra che nessuno Possa impensierirlo Vabbè Gli abbiamo dato una macchina Quei controfiocchi Eh Diciamolo Devo sfruttare un po' meglio La ripartenza Anche qui Troppo larghi Che poi non possiamo Affondare subito Perché il cordolo È maledetto Ma qui nel misto Possiamo approfittare Eh Anche Anche Fernando Ha un'auto che tiene Eh però Fernando A sto punto Mi spiace Ma noi ci insiniamo Dobbiamo andare a perdere A perdere A prendere Perez E tanto Sebastiano Se ne va Sebastiano Ha iniziato a A macinare Giri veloci Noi Dobbiamo puntare A Perez Perché poi alla fine Pure se Noi adesso Dobbiamo vedere Anche i punti A disposizione Perché alla fine Come detto Abbiamo un buon Vantaggio Per quanto ci siano Ancora 75 punti In palio Però possiamo Anche gestire La situazione Però la lotta Contro Perez È proprio una lotta Senza confine Senza quartiere Senza rispetto Da parte sua Perché noi abbiamo Sempre rispettato Tutto Però poi no Ha esagerato E quindi Perez È il nostro Rivale Acerrimo Nemico Che non si merita Nessuno sconto Vai adesso Col DRS Che ce lo Sverniciamo Forse Perché comunque Ha un buon motore La forza india Ma noi col DRS Signori Ci avviciniamo Tanto Tanto Ma non abbastanza Figlio Perez è così Signori Perez è così Ormai avete imparato A conoscerlo Che lui va lungo Poi frena E fa sì Che noi lo andiamo A tamponare Perché vedete Che ci hanno recuperato Pure questi qua dietro Questo No Non ci interessa La strategia alternativa Biondo Vabbè Al sesto Famolo al sesto Giro Signori La strategia alternativa Proviamola Però abbiamo fatta Proprio a cazzo Di cane Stavo leggendo A che giro stavamo Tra parentesi Ci fa anticipare La sosta Ci sta Ci sta Mi fido di loro Signori Mi fido di loro Mi fido di loro Mi fido di loro Mi fido di loro Distacco dalla prima posizione E 3,8 secondi Vabbè ormai Sebastian Che lo ripiglia più Però Però Sto figlio di Zoccola Di Perez Dai che va lungo E se non va lungo Ce lo mandiamo noi Signori con Perez È proprio odio profondo Odio Ormai già lo sapete Chi segue Ci sono stati Grandi screzzi Durante le stagioni Proprio una questione Di Odio viscerale Nei confronti Della Forza India Ocon meno Ocon Ci sta meno Antipatico Di Perez Però le Forza India Veramente sono Cattivissime Proprio Cattivissime Non ci sono state Altre auto Così Odiate Penso Nelle nostre Stagioni Ma qui Con la Forza India Soprattutto con Sergio Perez Proprio Non ci possiamo Vedere Comunque Lì davanti Sebastian Continua a macinare Come Se non ci fosse Il domani Neanche lo vediamo In questo giro Noi rientriamo In box E Abbiamo Un discreto Vantaggino Sulla Forza India Un discreto Proprio Gap Da Sebastian Vettel Quindi Magari qua Qualche taglietto Ci sarà Più avanti Può essere Sì perché Se ci facciamo Tutto il GP In solitaria Solitaria Tra virgolette Però sì perché Anche dietro Se riusciamo Ad accumulare Un buon vantaggio Un buon vantaggio Poi magari Qualcosina Negli ultimi Giri Ci sta Facciamo Facciamo Magari anche In live Su Twitch Quindi mi raccomando Seguitemi Su Twitch E Non metto Miscela magra Perché tanto abbiamo Benzina In A sufficienza Spegniamo Spegniamo Solo L'Hertz E vediamo Un po' Con Il pit Ora dobbiamo Vedere Dove rientriamo Se ci sarà Qualcuno Che ci farà Da tappo E in quel caso Perez Si potrebbe Avvicinare Oppure Se siamo Noi Possiamo Sfruttare Qualcosa Credo di no Vediamo Vediamo Più facile Che strolla Ci faccia Da Da tappo Penso Vabbè Vediamo dopo Il pit Come sarà La situazione E da lì Ci regoliamo Per capire Se sarà Una gara Easy Verso In secondo posto Tranquillo Le gomme Sono Freddissime Non è giusto Che sia Stai calmo Stai molto calmo Stai molto calmo Ah no Era Siroppin Non Stroll Dei togli Anche di prepotenza Ce la Prendiamo La Positions Allora Allora Di prime guide Non è rientrato Cioè di prime guide Tra Perez Vettel E Alonso Non è rientrato Non è rientrato Nessuno Allora Alla fine Quelli Vediamo Gli altri Ci interessano Meno Quindi vi dicevo Quindi vi dicevo Se veniamo anche su Twitch Che là ci facciamo qualche live Poi Vabbè Usciranno Vari titoli Di Guida Come detto Formula 1 2019 Ma anche MotoGP Nuovo MotoGP Ora a breve riprendiamo anche Assetto Corsa Competizione Poi vediamo se anche Qualcos'altro Ancora Non lo so Che giustamente i motori qua Non possono mancare Signore Rientrate Ma noi almeno Sfruttiamo Il PRS Allora Mi sa che Alonso Stava infossato Lì dietro Ma pure La Forza India Alcune informazioni Su Richard Sembra che abbia Un problema Vabbè Fernando Sì Fernando Sebastian È rientrato Lì davanti Dietro di lui Ha Non so se sia Penso O Leclerc Che ancora non si è fermato O Ericsson Non saprei Però Presumo che non si siano ancora Fermati Solo Fettel Si è fermato Rientrato Naturalmente Davanti a noi Aveva Un buon vantaggio Amaclusen Vatten Affanculo Cazzo Porca puttana Ma vai a 30 km all'ora Togliti dal cazzo No Naggia la puttana Di Eva Stimo Si defame Una porca puttana Troia Fanno quelle cazzo di curve Come degli ubriachi Di merda Neanche riesce a superarli Non capisci come cazzo Si muovono Ste teste di cazzo Vaffanculo E che cos'è Signori Ma noi siamo sportiveggianti Noi possiamo stare dietro Sti rincoglioni Di merda Comunque C'è stata una soglia Di difficoltà Dove Oltre la quale Siamo Incappati In questi Zigzagoni Da panico Perché capisco Che è un po' lungo E cerchi di rientrare Però A un certo punto Ti devi pure togliere dal cazzo Perché se ti sto superando Non puoi sportellare Fare a zigzag Con un coglione di merda Che poi alla fine L'alettone Sempre solo io Lo spaccio Perché loro Non spacciano mai un cazzo Questa non tiene più Una sega Vabbè va Comunque Tornando a noi Tornando a noi Adesso riprendiamo Un attimino Le misure Con L'alettone Scassato Abbiamo Comunque Un buon vantaggio Su Sergio Perez Che adesso sta macinando Come se non ci fossero domani Mancano Sette giri E ci facciamo Un Salto temporale Sì vediamo Fino a quando non ci ribecca Perez Perché è possibile Che ci venga a ribeccare Va bene dai Signori Ormai Perez Si è avvicinato Tantissimo Stiamo perdendo Perché Non Non abbiamo più Lo stesso grip Dei giri precedenti Con l'alettone Scassato Stiamo facendo Tantissima fatica E da tre secondi E mezzo Di vantaggio Su Perez Ormai ce lo abbiamo Qui incollato Anche perché Perez Sta macinando Tantissimo E qua vedete Dobbiamo rallentare Molto di più Rispetto a prima Perché sta Alettone Non tiene più Una cippa Invece di farla In settima In piena Questa la dobbiamo fare Sesta Col piede alzato Inoltre Anche a livello Di Hertz Vedete L'ho dovuto mettere Basso Perché Adesso lo rimettiamo Medio Ma forse Non è un po' alto Qua Prima l'avevo dovuto Mettere basso Perché Era completamente Andato E la benzina Sta finendo Quindi Adesso Occhio perché Perez Probabilmente Proverà A superarci E noi qua Dobbiamo cercare Di fare Tutto per tutto Signori Tutto per tutto Dato lungo Perez Noi naturalmente Lo accompagneremo Anche un pochino Fuori Ci teniamo Un pochino Di miscela Qua dobbiamo Smanettare Tantissimo Adesso Che sui rettilinei Dobbiamo Soffrire Ma non tiene più Quindi per forza Di cose Devo cercare Di Resistere Non sarà Facile Perché sul dritto Poi col DRS Aperto La forza India Va Molto Forte Una questione Di Principio Adesso Non ci Possiamo Far fregare È sempre Al limite Qui le frenate Occhio Dobbiamo stare attenti Anche alla benzina Che Non è che ne abbiamo Tantissimo Quindi Se quel maledetto Di Magnussen Ma perché Ogni comunicazione Me la dai Da questo lato Della pista Dove non arriva La radio Cioè per tutto il giro Non dice niente Quando sto nel punto Più lontano Dai box E che quindi La radio Gracchia Me dà le indicazioni Deve fare normale Ormai le traiettorie Sono molto Diffico Difficoltose Da mantenere Probabilmente ci svernicia Malissimo Ma noi In staccata Dobbiamo resistere Concentrazione Signore Noi ci lanciamo La Forza India Non deve arrivare Prima di noi Tantomeno Con Perez Ma non esiste Non esiste Aspetta il penso Che ormai Stia Già bevendo Lo champagne Sul polio Che aspetta Gli altri Chiaro Che non regge Dai è così Dai è così Stiamo facendo Un po' Da tappo Ma è giusto Così La posizione Dobbiamo pure Difendere Difendiamola Da questo Che potrebbe essere L'ultimo Assalto Attenzione Attenzione Qua ci riesce A superare Molto prima Molto prima Ah Leclerc È fuori dalla gara Noi comunque Ci siamo ributtati All'interno Perché comunque Non ci arrendiamo E Perez Viene superato Da No Adesso Adesso C'è l'all'interno Che ha Attenzione Attenzione Qui Lo accompagniamo Un pochino fuori Un pochino fuori Guardalo Come insiste Max Verstappen Teniamo d'occhio Anche la benzina Se non arriviamo Sebastian Vettel È arrivato Con largo anticipo Dai È così Con estrema Cattiveria Ci siamo riusciti A tenere La seconda Posizione Molta cattiveria Ci sta Ci sta Scusa Visto come si comportano loro Noi A questo punto Tiriamo fuori I denti E il cartello Cos'è sfrantumato Ah là Leclerc Vabbè Come si è franciato Va bene Comunque Seconda posizione Grande Eccoci No Non possiamo lamentarci No Anche perché la macchina Non era informissima Oggi Dopo Una tamponatina Lì Questi sono anche dettagli Perez Neanche terzo Andasse a cagare Vole Daie Daie Signore Classifica Mondiale Eh vabbè Mondiale è ancora aperto Perché mancano due GP 50 punti a disposizione Eh quindi Campionato Ancora aperto Signori Vedremo Nel prossimo GP Eh guarda Eh a me meno Però va bene Sei felice del risultato Di oggi no? Guarda Guarda Eh Cioè Vabbè dai Ci sta Ci sta Un po' di sconti Tu e il tuo rivale Avete finito molto vicini Come vanno le cose tra voi? Bene Solo che c'è straccia ogni volta Ma questo è un altro discorso Ottimo Eh ottimo Ottimo cosa Non è ottimo Va bene Va bene Allora Eh non so se abbiamo un po' di punti da dare Vabbè nella ricerca e sviluppo Per quanto riguarda Quello che è il Odio fantastico Grazie Grazie Continua così fino alla fine della stagione Due gare mancano signora Due gare Quindi siamo lì lì Siamo lì lì Possiamo buttarci qualche punticino qua Tanto per Tanto non che andiamo a fare gare però Giusto per Giusto per Gliela lasciamo almeno fatta bene per il prossimo anno Va bene ragazzi Ci vediamo al prossimo GP Come sempre lasciate like Condividete Seguitemi su tutti i social Instagram, Facebook e Twitch Ci vediamo con il prossimo GP Un saluto a tutti da Quel Taleale Grazie a tutti Grazie a tutti.